Nella luna di febriare, l'ultimo maggiorno di un mucachombra di Gesù Ania, a Baikehan, la scuola in riba e forma con le fraude scuole primarie che da vecchia sta trattando la nuova, come che nada abbia fatto, è la accettina al gobierno come sora a mandare il departamento concerni. Desprese alcune settimane di investigazione e interrogazione ha deciso di avere sufficiente base per cominciare a fare una medida nel buono di emozia e sull'educazione. Scuole primarie che da vecchia, da marcha di notizia ultimo settimane. Anche non trajando con un docente di meno, anche non per papi di suspensione, sino che il fraude messa dal A.O. Desprese imire la accettazione contro Jay. Il caso A qui sta trattando, un caso di posibilmente trattato pedagógico irresponsabile, è dicer, comportazione di un fraude scuole che non sta corretto nel trattamento di un alumno. Un'acettazione obisario. Non si scuola la parola bullion, lo che non sta riferendo a Jayle, è trattato non pedagógico, è trattato pedagógico irresponsabile. E che ho a qui, a direnter, a mi persona, e a vor attendi door di DPS. E malattaro sicurato, quando trattate caso, a che mi scuola con tur otro, per sopra ora te attende con mucha, non può essere distinzione, arriva nel color, nella raza, la religione, a voi di chi non sta. A, conforme la procedura, a scuola di tutti i partiti coinvolti, è dicer, è la mia figlia di scuole, è la mia figlia di scuole, è la mia figlia, è la mia figlia, è la mia figlia, è la mia figlia. Tutti quattro persone a voi scuola. E se è a tommo il luogo, rondi il 5 di marzo, specificamente, è la mia figlia di scuole, dove c'è una riunione con il direttore di DPS, con il rappresentante del Ministero di Enseganza, arriva nel 5 di marzo. Il 20 di marzo, ho ricevuto una carta che è preciso il passo, il medida, che è un caso che, mentre ho avuto un'investigazione, andando, che lo abbia in vigore. Fui del 5 di marzo, per il 20 di marzo. E questa è la mia figlia, per me acclarare, per se non si scuola, che è un giorno per l'altro, adrienta un'iamata, e un dia per l'altro, a scuola si è frau. E è assolutamente, è che non è caso. Acumula i dati, a interrogar i dati, è una cosa che è involvita, tanto la tata, la mamma, la alumna, la docente, la docente suplente, e la cabezante. Dopo, si è scuola i dati, e arriva alla conclusione, e la medida non è temporale. che si è scuola, la docente suplente, non attive setting, di 5 dia, cu salario, bella la scuola, pedagogica, per il giovra di scuola, remerci la funzione, di il giovra di scuola, con un'altra giovra di scuola, con un'altra giovra, che si è scuola, di un'altra parla, il giovra, il giovra, ha un'altra funzione, e un'altra giovra, lo adrienta, in sua classe per il resto del anno escolar e seguire la investigazione mirando che nel momento non c'è sufficiente base per implementare una certa medida mentre seguire la investigazione più profonda e più più persone Per ora, non c'è question di chi ha più potere affittare la sua cheja ai 25-8 tanti e fraubom e manatare sicuramente che tutto molto è uguale e tutto molto di messo il valore per la cheja dei maltrato ma non c'è un po' di rinforzare un po' di rinforzare ma sobra è solo un po' di rinforzare porta è fostoso porta è maio la cooperazione non è la cooperazione non è porta è un po' di rinforzare anche a gai in denso passato se qualche momento a me trova esattiva ma sobra è politicamente inconveniente come to guarda puntare ma non c'è esattiva se è il ultimo dia a me lo temere ma sobra è un po' di rinforzare per fare qualcosa che sicuramente non è corretto Amita Patrick Pascal PA-A-TV Canal G5 Minister Michelle Hoibur Vinclar assicura che in settimana che ci sono più interrogazioni per la parte del partito che si è un'appellazione di DPS e inspecci per la curva dono un caso a qui ma priorità possibile Grazie a tutti Grazie a tutti